La vaccinazione degli over 80 A voi telespettatori ben ritrovati, sono 128 i casi registrati oggi in Sardegna. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dell'1,8%. Non si registrano nuovi decessi, i guariti oggi sono 43, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 185. Sul territorio provinciale di Oristano si registrano tre casi. A Oristano città non sono stati registrati nuovi contagi e guarigioni. Come avete sentito prosegue la campagna di vaccinazione anti-covid delle persone ultraottantenni in provincia di Oristano. Sentiamo tutti i dati nel servizio. Va avanti la campagna di vaccinazione anti-covid delle persone ultraottantenni in provincia di Oristano. Oggi si sono chiusi due giorni di vaccinazione al poliambulatorio oristanese, dove sono state somministrate complessivamente 197 dosi. Vaccinate anche gli ultraottantenni di Milis, 108 dosi. Bauladu, 45, Tramazza, 67, Samugeo, 72. Sempre oggi un team vaccinale ha avviato le inoculazioni anche ad Arborea, dove si proseguirà domani. Vaccinazioni a Zediani domani, venerdì 12, e a San Verumilis sabato 13 marzo. La prossima settimana i team vaccinali a ASL saranno a Riola, a Nuracchi, a Drusurgiu, Terralba, Barattili, Narbolie e Masullas, nei giorni e nelle sedi concordati con i rispettivi comuni. Complessivamente, nei sette paesi, è prevista la somministrazione di circa 1.800 dosi di vaccino Pfizer. Parallellamente alla prosecuzione della campagna anticovid nei comuni della provincia, per domenica 28 marzo è prevista l'ospedale San Martino, nei locali dell'ex pronto soccorso Ilvidei, una giornata vaccinale dedicata agli ultraottantenni residenti in città. L'organizzazione dell'evento, promosso dal Servizio di Igiene Pubblica, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in collaborazione con il Comune d'Oristano, La Protezione Civile e l'Ordine dei Medici è stata al centro dell'incontro, svolto oggi nella sede del municipio. Per l'occasione saranno invitati circa 1.000 anziani, saranno allestite 7 postazioni vaccinali che lavoreranno parallelamente. Le operazioni si suolgeranno dalle ore 9 alle ore 19 e si accederà da entrambi gli ingressi dell'ospedale per evitare assembramenti. Gli over 80 non dovranno recarsi in ospedale spontaneamente, ma saranno convocati dal personale incaricato dal Comune d'Oristano in una fascia oraria prestabilita, così da diluire l'afflusso di persone nell'arco della giornata. Il personale del Comune, insieme alla lettera d'invito alla vaccinazione, consegnerà ad obicilio anche i moduli del consenso informato e la nota anamnestica che dovranno essere restituiti, già compilati, agli operatori sanitario al momento della vaccinazione. Per la loro compilazione, gli anziani potranno richiedere l'aiuto al proprio medico di famiglia. Sarà riaviata lunedì 15 marzo l'attività della Commissione per il rilascio, il rinnovo e la revisione delle patenti speciali effettuata dal Servizio di Medicina Legale ATS Aslo-Oristano, coordinata dalla Direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Maria Valentina Marras. Presentata in Consiglio regionale una mozione sull'ospedale San Martino di Oristano. Sentiamo da chi è stata presentata. Molteplici le criticità che affliggono l'ospedale San Martino di Oristano. Questo l'oggetto della mozione è presentata in Consiglio regionale dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas. Attraverso questa mozione, ha affermato il consigliere regionale, sono state portate all'attenzione della Giunta le numerose disfunzioni e i gravi disservizi che interessano quasi tutti i reparti dell'osocomio oristanese, dovuti alla cronica carenza di personale sanitario, per ottenere un intervento urgente della Regione e dell'ATS che metta la struttura nelle condizioni di poter garantire tutte le prestazioni previste dal documento di rilefinizio della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna del 2017. La situazione attuale è molto grave e ingestibile, ha aggiunto l'esponente Pentastellato, perché ormai da mesi il turno di notte è assicurato da un solo medico e quattro infermieri, con un carico di lavoro e di responsabilità disumano. Se questo ospedale nell'indifferenza generale garantisce gran parte delle cure, come ribadito dal sindacato Cimo, è solo ed esclusivamente grazie ai pochi operatori sanitari rimasti che ogni giorno fanno fronte a carichi di lavoro e responsabilità non richieste, rinunciando spesso a ferie, permessi e straordinari. Cambiamo totalmente argomento. Pesca del riccio di mare nell'area marina protetta. Il Ministero non ha accolto la richiesta della deroga. Vediamo. Prese di posizione finite nel nulla. Il 30 gennaio si presentarono davanti alla sede dell'area marina protetta per manifestare il loro malcontento, per avere chiarimenti. Fu presente anche il sindaco. Ieri, 10 marzo, la risposta. Non accoglimento della richiesta di deroga presentata dall'Aggiunta Abis al divieto di pesca del riccio di mare in area marina protetta. Immediatamente informati i pescatori di Cabras. La richiesta di deroga per la stagione di pesca 2020-2021 presentata dall'amministrazione comunale non è stata accolta in quanto non sussistono le condizioni ambientali adatte per garantire la sopravvivenza della specie che risulta in una situazione di estremo allarme nonostante l'assenza di prelievo nell'ultimo anno. Il Ministero ha acquisito venerdì 26 febbraio il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA che dopo aver esaminato e valutato la documentazione disponibile relativa anche agli anni passati ha ritenuto che non possano essere autorizzate ulteriori attività di prelievo del riccio di mare ravvisando l'urgenza dell'applicazione immediata di tutte le misure indispensabili per permettere alla popolazione della specie in oggetto di tornare ad una situazione di naturalità ed equilibrio. Inevitabile la presa di posizione del primo cittadino cabrarese. Ho preso atto del fatto che le richieste dell'area marina protetta non sono state accolte anche laddove veniva proposto un numero minimo di giornate di pesca comprendo il forte stato di disagio economico della categoria e non smetterò di riproporre all'attenzione del Ministero e della Regione l'attivazione di progetti speciali e qualunque ulteriore possibile azione di sostegno e supporto degli operatori anche in anticipo rispetto alla ospicata ipotesi di un piano di fermo di pesca triennale. L'assessorato alla pubblica istruzione Beni Culturali, Informazione, Spettacole, Sport Direzione Generale dei Beni Culturali, Servizio Lingua e Cultura Sarda ha disposto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai fini dell'aggiornamento per l'annualità 2021 del catalogo di laboratori culturali Si è tenuta in prefettura una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e il comandante della Capitaneria di Porto due le tematiche discusse, sentiamole Verranno intensificati i servizi di controllo nelle aree più sensibili della città mercoledì 10 marzo si è svolta presso la Prefettura di Oristano una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e il comandante della Capitaneria di Porto presenti anche il sindaco di Oristano Andrea Luzzo e il vice sindaco di Terralba due le tematiche affrontate la pesca abusiva e gli assembramenti nelle vie centrali della città di Eleonora nel corso dell'Assemblea si legge nel comunicato diffuso dalla Prefettura si è convenuto sulla necessità di intensificare i controlli atti a garantire il rispetto del divieto di pesca del riccio di mare nell'area marina protetta penisola del Sinis, isola di Maldiventre da parte di pescatori di frodo anche provenienti da altri territori provinciali a tal fine è stata disposta l'intensificazione dei controlli a mare e terra con la partecipazione delle Forze dell'Ordine della Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale secondo tema discusso gli assembramenti nel fine settimana occhi puntati sui giovani che nel weekend si riversano nel centro di Oristano spesso provenienti da paesi limitrofi talvolta in stato di alterazione psicofisica pronti dunque ad intervenire con campagne mirate di sensibilizzazione tese a dissuadere i giovani da comportamenti analoghi per il prossimo fine settimana inoltre saranno intensificati i servizi di controllo da parte delle Forze dell'Ordine se tali iniziative non dovessero produrre gli effetti auspicati conclude il comunicato si valuterà l'opportunità di introdurre più stringenti limitazioni analoghe a quelle già disposte nei giorni di carnevale non ci sono in questo momento ritardi nell'erogazione degli aiuti per le misure a superficie ad animale del programma di sviluppo rurale della Sardegna in generale la spesa registra una buona performance nel momento che con una spesa certificata ed erogata pari a circa 839 milioni di euro cioè a 65% delle risorse da spendere entro la data del 31 dicembre del 2023 la Sardegna si pone tra le prime sei regioni d'Italia in termini di spese effettuata sullo sviluppo rurale e ha già raggiunto gli obiettivi di spesa programmati per la scadenza del 31 dicembre 2021 ciò significa che anche per quest'anno è stato scongiurato con largo anticipo il rischio di disimpegno di fondi europei per il settore agricolo a dichiararlo l'assessore regionale Gabriella Morgia Torna a crescere la povertà assoluta in Italia sentiamo Paolo De Zogus Continuano ad essere impietose le valutazioni sulla situazione economica del paese con l'Istat che aggiorna al 2020 la sua radiografia sostenendo che di fatto il paese è tornato indietro di 15 anni e che 225.000 famiglie sono entrate nella fascia di povertà assoluta in pratica si tratta di oltre un milione di nuovi poveri che vanno ad aggiungersi alle fasce sociali già individuate che alla fine del 2020 secondo stime comparate in Italia avevano raggiunto i 15 milioni di soggetti classificati in sofferenza tra questi spiccano i giovani e i giovanissimi con le relative famiglie colpite maggiormente dagli effetti della crisi dando luogo a una incidenza della povertà assoluta stando all'Istat nell'aggiornamento dei suoi dati le persone in condizioni di estrema indigenza sono pari a 7 milioni e 400 mila unità con il dato che è superiore al doppio contemplando i soggetti coinvolti in situazioni di riconosciute sofferenze stando al sindacato della CISL che ha valutato le ultime proiezioni si tratta di dati drammatici che pongono il problema di potenziare il reddito di cittadinanza e cambiamo argomento il comune di Oristano interverrà per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana vediamo per le strade cittadine presto una nuova veste con un progetto da 230 mila euro il comune di Oristano interverrà per la manutenzione straordinaria della viabilità urbana i lavori partiranno nei prossimi giorni saranno realizzati dall'impresa Serci di Guspini si interverrà sulle pavimentazioni stradali sui marciapiedi sui sistemi di raccolta delle acque della segnaletica di via Cimarosa via Scirocco via Alagon e via Consolini con questo piano focalizziamo l'attenzione sulle vie che risultano avere la parte carreggiabile piuttosto fatiscente a causa di diversi fattori da ricercarsi soprattutto nella vetusta del tappeto stradale e al susseguirsi di diversi tagli stradali ad esempio per la realizzazione di infrastrutture rete idrica rete del gas fibra ottica hanno dichiarato il sindaco Andrea Luzzo e l'assessore ai lavori pubblici Francesco Pinna in questi anni abbiamo programmato ed eseguito numerosi interventi in città e nelle frazioni in funzione dell'urgenza dell'intervento dei volumi di traffico della sicurezza e della percorribilità stradale cercando di risolvere le peggiori criticità con interventi puntuali al fine di consentire la migliore fruibilità della maggior parte delle strade Al fine di consentire l'esecuzione di lavori di ripristolo della funzionalità idraulica da lunedì 15 a venerdì 19 marzo nella via Vandalino Casu nel tratto compreso tra la via Sardegna e la via Umbria e nella via Carnia tratto compreso tra la via Sardegna e la via Umbria si renderanno necessarie modifiche alla via Abilità lo stabilisce un'ordinanza dirigenziale del comune di Oristano che prevede l'istituzione di tratti di divieto di sosta con zona rimozione del senso unico alternato di marcia il restringimento della carreggiata il transito e la sosta dei veicoli della ditta esecutrice e strumentali ai lavori ieri si è svolto l'incontro online tra commissione pari opportunità del comune di Oristano e gli studenti dei comuni di Seneghe Santurussurge e Bonarcato Mercoledì 10 marzo la commissione pari opportunità del comune di Oristano ha incontrato tramite la piattaforma Meet i ragazzi dell'istituto comprensivo dei comuni di Santurussurge Seneghe e Bonarcato i primi ad intervenire sono stati la presidente Pasqualina Pipia il vice presidente Luigi Mureddu e il commissario Patrizia Cadau per raccontare agli studenti cosa siano la parità di genere e le pari opportunità per approfondire il tema della discriminazione delle donne in ambito professionale e del linguaggio di genere la commissione ha dichiarato la presidente Pasqualina Pipia ringrazia sentitamente la dirigente Patrizia Zori i docenti e i ragazzi per la cooperazione e gli interessi dimostrati a garanzia della necessaria promozione nelle scuole di ogni ordine e grado di un'educazione alla parità tra i sessi e di una continua riflessione sul contrasto alla violenza di genere e a tutte le discriminazioni che costituiscono una piaga sociale da combattere attivamente già nella prima infanzia e ora ci spostiamo a Macomer la ciclat non funziona sentiamo Pier Gavino Vacca polemica sui social sulla nettezza urbana a sollevarla è il gruppo di minoranza che si è dimesso dal consiglio comunale e che ricompare sulla scena con un comunicato secondo quest'ultimo negli anni scorsi l'amministrazione comunale è stata sollecitata più volte sul contratto dei servizi per l'igiene urbana sottoscritto con la ciclata nel 2015 e che a tutt'oggi secondo il gruppo presenta delle gravi inadempienze sugli orari dell'ecocentro lo spazzamento delle strade la pulizia delle caditoie e il pronto intervento sulla raccolta dei rifiuti abbandonati il numero di reiterazioni delle inadeguattenze prosegue il comunicato richiederebbe dei severi provvedimenti persino la risoluzione del contratto anche per il mancato obiettivo della raccolta differenziata che ha fatto perdere la premialità regionale è stata combinata solo qualche piccola sanzione si dice ancora mentre si paga l'intero canone nonostante le mancavolezze i cittadini intanto pagano per intero lattare ancora il comunicato del gruppo accusa l'abilitazione di giustificare la ciclat oltre la verità dei fatti secondo il gruppo una recente delibera scalerebbe per contratto le ore dell'azienda da 10 a 6 mentre in effetti le ore di lavoro dell'azienda sarebbero sempre state 6 con un risparmio di quest'ultima di 25.000 euro le rimanenti 4 andrebbero allo spazzamento della città quest'ultimo atto dimostrerebbe sempre secondo la minoranza come lo spazzamento sia il problema della città a questo punto il comunicato chiede l'annullamento della delibera in quanto fatta in base a presupposti non esatti e definisce inaffidabile l'aggiunta comunale e l'assessore all'ambiente quest'ultimo Andrea Rubattu non ha concesso molto alle polemiche affermando che la sua trasparenza e quella dell'aggiunta nei confronti della gestione dei servizi disturba ed indispone coloro che hanno un'altra idea sulla gestione della cosa pubblica secondo Rubattu l'azione intransigente nei confronti della Ciclat è non solo negli atti ma sotto gli occhi dei cittadini che possono giudicare tutti i giorni l'aggiunta lavora per rendere il migliore servizio alla città secondo l'assessore e non ha tempo da dedicare a coloro che sono stati duramente giudicati dai cittadini sul tema e con gli stessi argomenti contro la giunta è intervenuto anche Daniele Niedu esponente di futuro possibile anche egli rappresentante di una minoranza che si è dimessa voltiamo pagina cresce il commercio online in Italia sentiamo Paolo De Sogus nei saldi e tanto meno i ristori hanno contribuito ad allentare la crisi del commercio conseguente all'epidemia di Covid che continua ad essere dominante con l'aggravio delle diverse varianti di incerta definizione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le vendite hanno subito una contrazione che sfiora il 7% ed è da considerarsi una fortuna mentre nello stesso periodo le vendite online sfiorano un aumento del 40% segno che il paese accede più facilmente alle reti della tecnologia indicate come il futuro planetario e in effetti se questo sarà come sembra per il domani sarà necessario mettere nel conto anche le sofferenze dell'umano vivere e operare ma non è questa la sede per affrontare discorsi e valutazioni del genere quanto riferire l'andamento complessivo di un sistema che stante le restrizioni in atto premia solo alcuni settori l'alimentare ad esempio poiché la gente si nutre mentre altri peggiorano al punto da indurre la confasercenti di suggerire di dare respiro alle imprese di vicinato ai negozi di quartiere quindi ormai stremati ristabilendo anche una dimensione più umana dei rapporti nel vivere comune e questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con informazione e ora vi lascio al TG nazionale e buon proseguimento con i nostri programmi a tutti i nostri programmi